Ciao a tutti, un saluto particolarissimo innanzitutto a vostro sindaco Spina, alle autorità religiose, a tutti gli amici di Bisceglie. Ricordo veramente e molto volentieri l'anno scorso il premio che mi avete riconosciuto. È stato per me un bellissimo momento e vi porto dentro, vi ripeto, uno straordinario ricordo. Spero di incontrarvi ancora presto. Infiniti auguri, perché no, ai nuovi premiati. Un abbraccio a tutti. Ciao da Roby Facchinetti.